chi c'è c'è del 19 giugno antonello peone valeri leva siamo in quattro quattro amici al bar mangiato bene ragazzi ma bene bene 0 a 0 comunque 0 a 0 0 a 0 soltiamo che presidente che è adria 0 a 0 0 a 0 0 a 0 per chi? per l'Ucraina gol in diretta 0 a 0